Quinto tutorial realizzato per Scuola Italiana Moderna andiamo a sfruttare due nuove estensioni l'estensione traduci e l'estensione da testo a voce allora andiamo a installare già queste due estensioni eccole qua, una è da testo a voce che trasformerà le nostre stringhe di testo in voce vedete che richiede l'utilizzo di connessione quindi o wifi o via cavo e poi ci aggiunge questi tre blocchi e poi aggiungiamo l'estensione traduci che traduce delle stringhe di testo in un'altra lingua utilizzando il servizio di traduzione di Google anche qui è richiesta una connessione dati benissimo prepariamo come al solito il nostro ambiente per comodità, per simpatia, per quello che volete questa volta mi tengo il mio gattino per fare tutto il lavoro andiamo a giocare con i nomi degli sfondi allora io ho già preparato degli sfondi che ho scaricato da Pixabay vado a pescarmi i miei sfondi ok sono questi li importo tutti in questo modo ok andiamo a vedere adesso mi li sta caricando tutti perfetto tolgo il primo che non mi serve che è vuoto l'unica accortezza è di portare il primo come primo sfondo lo sfondo che deve chiamarsi Do you speak English? che nel nome dello sfondo non è inserito il punto di domanda io vi consiglio di inserire proprio il punto di domanda perché nella pronuncia poi da testo a voce risulta migliore la pronuncia fatto questo abbiamo già preparato il nostro ambiente torniamo sul nostro sprite e iniziamo come al solito mettendo dentro i nostri blocchi anche qui useremo una soluzione a tre step sposto il gattino qui in basso una soluzione a tre step in modo tale che poi in questa playlist che vi ho preparato possiate decidere dove fermarvi per presentarlo ai vostri alunni o se interessa direttamente a voi vi ricordo che questa è una soluzione pensata per le scuole elementari dalla terza in su quindi il primo livello può essere abbastanza base e gli altri sono un po' più complicati anzi oggi vedremo che le cose rispetto agli altri tutorial che avevamo fatto finora si complica un pochino ma insomma è anche giusto al quinto tutorial cercare di fare un qualcosa di un po' più complesso allora partiamo sempre dal nostro situazioni bandierina verde faccio un piccolo zoom per vedere un po' meglio e a questo punto anzi riduco anche il nostro stage poi vado in aspetto e scelgo passa allo sfondo do you speak english? benissimo poi vado in da testo a voce e uso il usa lingua e diciamo di usare la lingua inglese in modo tale che venga letto il nome dello sfondo con un accento inglese uso il blocco pronuncia pronuncia ciao al posto di ciao andiamo di nuovo in aspetto e prendiamo il blocco numero sfondo e variamo da numero a nome cosa succede in questa piccola sequenza? passiamo allo sfondo do you speak english? che è il primo blocco che noi abbiamo perfetto e gli diciamo di usare la lingua inglese con l'estensione del testo a voce e facciamo leggere a scratch il nome dello sfondo nome dello sfondo che vi ricordo è in questo caso do you speak english? ok? benissimo mettiamo andiamo in control e prendiamo attendi 1 secondi e viene se voi premete sulla bandiera verde vedrete che beh in questo caso non passerà allo sfondo perché ci siamo già ma verrà letto il nome dello sfondo ok andiamo avanti ci creiamo una variabile che chiamiamo sfondo questa ci permetterà di contare e di passare da uno sfondo da uno sfondo all'altro e a questo punto sempre da da variabili prendiamo porta la mia variabile e la cambiamo in sfondo e la impostiamo a 2 perché a 2? perché noi partiremo vado sugli sfondi ok noi abbiamo vedete 9 sfondi di cui uno è il nostro sfondo iniziale in realtà per fare questo piccolo giochino questo quiz partiremo dallo sfondo 2 ok quindi questa variabile ci permette la useremo proprio per partire dallo sfondo 2 a contare e faremo un ciclo un ripeti 10 volte che vi ricordo che trovate in controllo naturalmente noi abbiamo 9 sfondi ne usiamo il primo è il solito do you speak english e ne useremo 8 partendo dal 2 quindi dal 2 in su fino ad arrivare al 9 cosa ci mettiamo qui dentro ma allora qui dentro mettiamo un passa allo sfondo ok e al posto del nome usiamo questo piccolo trucco andiamo andiamo scusate in variabili prendo la variabile sfondo e la metto al posto del nome in questo modo gli sfondi vado qui indietro un attimo il blocco avete visto che noi abbiamo fatto pronuncia nome e sfondo in realtà vedete che costumi e sfondi possono essere richiamati per nome e per numero noi possiamo usare il blocco che normalmente utilizziamo per passare allo sfondo in base ad un nome possiamo passare ad uno sfondo anche attraverso la sua posizione nell'elenco dei costumi e degli sfondi cosa succede? passa abbiamo detto porta lo sfondo a 2 con passa lo sfondo in questo momento la variabile contiene il valore 2 quindi passerà al secondo sfondo benissimo riprendiamo da aspetto anzi riprendiamo da aspetto prendiamo il dire ciao per 2 secondi e al posto di ciao riprendiamo il nome sfondo in questo modo ok così verrà ripetuto per 8 volte il nome si passerà allo sfondo in base al numero in base all'incremento della variabile e avremo passo allo sfondo dire nome sfondo per 2 secondi ok usiamo di nuovo il nome all'interno in questo caso di un fumetto apparirà un fumetto benissimo andiamo avanti oltre a farlo visualizzare a livello di fumetto vi faccio vedere cosa succede ok giocare a tennis in questo caso in questo caso lo ripeterà per 8 volte semplicemente perché non abbiamo ancora usato il blocco di incremento della variabile della variabile sfondo ok ma oltre a farlo visualizzare come fumetto vogliamo fare come all'inizio come in questa prima parte dove il nome dello sfondo viene anche pronunciato ok quindi torniamo in da testo a voce in questo caso il nome dello sfondo è in italiano ok giocare a tennis lascio la lingua italiana e prendiamo di nuovo il blocco pronuncia ok al posto di pronuncia mettiamo di nuovo il nome sfondo per comodità lo duplico e lo prendo da qui ok in questo modo viene pronunciato ok il nome dello sfondo con la voce andiamo in attendi scusate andiamo in controllo e prendiamo attendi 1 secondi in questo modo così verranno letti si leggerà il nome dello sfondo e si pronuncerà il nome dello sfondo si aspetta un secondo e poi ripartirà con il ciclo in modo tale da non creare un elenco troppo come si dice troppo veloce adesso facciamo la seconda parte la seconda parte è quella di pronunciare di dire il nome in inglese e pronunciarlo in inglese quindi scriverlo scratch dovrà scrivere con il fumetto la traduzione delle varie immagini ok e e pronunciarlo per farlo usiamo lo stesso gli stessi blocchi di prima per comodità andiamo in aspetto dire per due secondi ok poi useremo di nuovo da testo a voce usa lingua dopo le impostiamo tutte e pronuncia in questo modo allora sicuramente lo dobbiamo impostare in inglese perché pronunceremo il tutto in inglese e usiamo però un piccolo trucco non possiamo usare direttamente il nome sfondo perché in italiano lo dobbiamo tradurre allora dall'estensione traduci prendiamo il blocco traduci lo posizioniamo al posto del ciao naturalmente gli dovremmo dire di tradurlo in inglese in questo modo e cosa traduciamo il nome dello sfondo ok tradurremo il nome dello sfondo cosa succede prima avevamo il blocco dire che faceva apparire un fumetto con semplicemente la lettura del nome dello sfondo in questo caso cosa facciamo prendiamo il nome dello sfondo il nome dello sfondo lo facciamo tradurre al blocco traduci in inglese e il risultato viene visualizzato dal nostro personaggio facciamo la stessa identica cosa qui sotto ok pari pari in questo modo avremo la lettura a voce del nostro sfondo tradotto aggiungiamo un altro attendi uno secondi e dobbiamo aggiungere anche la cambia sfondo di uno ok ecco fatto il nostro primo step verrà ripetuto per otto volte quindi partirà con do you speak english cambia lo sfondo giocare a tennis e poi play tennis e verrà pronunciato e così via suonare la chitarra e così via vedete che qui si incrementa la variabile play the guitar ok e così via noterete che c'è un piccolo problema di sincronizzazione tra audio e testo scritto allora una piccola soluzione a questa cosa è di non utilizzare il blocco dire per due secondi ma eventualmente si può utilizzare il blocco semplicemente dire in questo modo il flusso diventa più veloce la sequenza diventa molto più veloce in realtà nello step 2 vi propongo una seconda soluzione che vi permette di utilizzare proprio il dire per due secondi